Ti dico io com'è questa canzone di poi, qui la progressione è così, primo, secondo, terzo e quarto, e poi piego di lì, vado sul sì e la relativa è qui, secondo, quinto, torno al maggiore così, ecco la stala e la nona minor, quanto dolor, ma poi siamo ancora qua, ma ora modulo e poi vado al minore, che si chiama uguale, poi la stessa frase porta il sole qua, ora è maggiore il sol, ci ha messo un sacco, sai, a registrare, le voci dei cori, son tre intonatissime, Ma ecco il si bemone e la frase a semitoni che si inventa George, sarà questo il bridge o il ritornello? La melodia è un erpeggio, poi quella scala è la seconda voce, che c'è solo qui, e poi scala e poi salto e giù, e chiudo qui, come iniziai, qui, là e ovunque stai.